Un temporaneo anticiclone che si spinge dalla Spagna verso l'Italia, spinge verso i Balcani la depressione. Nella notte tra sabato e domenica un debole e veloce fronte interesserà la nostra regione. Poi affluiranno correnti settentrionali a tratti umide ed instabili che porteranno aria un po' più fresca a metà della prossima settimana. Per sabato prevediamo inizialmente cielo variabile o nuvoloso sulla regione. Durante la notte saranno possibili anche locali banchi di nebbia in pianura e sulla costa. Dal pomeriggio in montagna sarà possibile qualche sporadica pioggia e dalla serata un peggioramento un po' più diffuso con piogge diffuse in genere debole o moderate su tutta la regione. Le temperature massime saranno attorno ai 18-20 gradi su pianura e costa. Per domenica inizialmente cielo nuvoloso, poi durante le ore centrali avremo delle schierite un po' più ampie sulla pianura e sulla costa. Nel pomeriggio in stabilità con qualche rovescio o qualche temporale è più probabile sulla zona prealpina e sulla fascia orientale. Temperature massime tra i 19 e i 21 gradi su pianura e costa. Lunedì e martedì avremo due giornate abbastanza simili, bel tempo al mattino e poi in stabilità nel pomeriggio con qualche rovescio o qualche temporale che si formerà inizialmente sulla fascia prealpina e che potrebbe poi interessare qualche zona di pianura e costa. Dall'osservatorio meteorologico dell'ARPA, Livo Stefanotto.